E adesso subito il collegamento con il mio primo ospite di oggi, Riccardo Milillo, giovanissimo imprenditore politico, insomma una persona che stimo moltissimo. Ciao Riccardo! Buongiorno Gianni, grazie mille per l'invito, un piacere! Allora, io ti ho invitato perché ho saputo che sei il direttore artistico del New Carubo 2022, che aprirà le porte a tutti quanti noi, insomma, cittadini, amanti, appassionati di musica, della discoteca e non solo, domani, sabato 23 luglio 2022, dopo due anni di stop! Sì, finalmente ci siamo, è stata una battaglia in verità perché l'organizzazione dietro una singola serata, vi è un'organizzazione incredibile da parte di tutti i ragazzi, di tutte le organizzazioni, perché da soli purtroppo non si riesce a fare niente, quindi l'aiuto è importante. Domani finalmente riapriamo il New Carubo che è chiuso dal 2020, causa ovviamente pandemia Covid-19. L'ultima serata che noi abbiamo fatto è stata nel 2019, che abbiamo chiuso quell'estate con diverse serate veramente importanti, con attrazioni molto, molto importanti come Muevelo, di Radio Kiss Kiss, Mamacita, che ricordo che è un format europeo che è residente anche a Ibiza e Formentera durante l'anno, che non era mai scesa sotto Napoli e siamo riusciti a portare qui questa attrazione, Luque che è venuto a fare un concerto il 14 agosto, era doppio disco di platino mi sembra. Comunque ora finalmente riapriamo, io e il mio socio che ringrazio sempre di tutto l'aiuto che mi dà a livello della direzione artistica e non solo, giustamente, siamo pronti a riaprire finalmente la discoteca di Agropoli e del Cilento accogliere soprattutto i ragazzi, portarli qui nella zona che per noi è molto importante, perché bisogna creare qualcosa per il settore giovanile. Io sono la prima persona che si mette in macchina la sera e per cercare una movida leggera va fuori, perché purtroppo qui solo nei 25-30 giorni di agosto è strutturato qualcosa per i giovani. Noi vogliamo essere ovviamente un esempio anche per i futuri imprenditori, giovani o meno, giovani o meno, che vogliono investire su questo territorio che è bellissimo e noi ci teniamo a dirlo e noi vogliamo portare attrazioni turistiche e non solo al New Car Rubbo. Noi facciamo un grande in bocca al lupo, però devi assolutamente dirci un po' di novità, insomma il programma, spiegaci come sarà strutturata la serata, sappiamo che ci sono i DJ Luigi Tassone, Ciro Panariello e poi la voce di Anacleto se non sbaglio, giusto? C'è anche Luca Severino come DJ che ritorna alla console dopo un periodo di pausa, io sono molto entusiasta di questa scelta, io ho fatto insomma la proposta, lui ha accettato e sono molto felice che lui faccia parte del gruppo, insieme a Ciro Panariello e Luigi Tassone che sono i primi che sono entrati in questo gruppo, che hanno creduto soprattutto al Car Rubbo, hanno creduto all'organizzazione. Inizia il 23 e faremo tutti i sabati e tutti i mercoledì di agosto anche con live show cantato, quindi il target non sarà solo giovanile, noi facciamo sempre, abbiamo fatto sempre ingresso vietato ai minorenni dal 2019 e continueremo con questo target perché noi dobbiamo dare la possibilità alle persone più grandi di non andare fuori a Ciaroli e altrove, ma di tenerli qua nel territorio, spendere i soldi sul territorio perché è importante per l'investimento anche futuro che ci deve essere. Noi ovviamente vediamo quest'estate come va che è la prima post-Covid che in verità post-Covid non è poiché è ancora, gira ovviamente il Covid purtroppo e speriamo ovviamente di non avere sorprese ma penso di no. Faremo tutti i sabati e tutti i mercoledì. A breve pubblicheremo la programmazione ufficiale e ovviamente ci tengo che tu Gianni sia il primo e spero vivamente di portare, esatto, questa è una foto che viene trasmessa del 14 agosto di Luqueco Muevelo che è stato un concerto molto molto bello, me lo ricordo e ho avuto anche complimenti da parte dei ristoranti della zona, dei hotel, dei B&B perché con l'indotto che si crea circola l'economia nel Paese. È importante avere un punto di riferimento nel territorio e noi lo vogliamo essere. Assolutamente, io ti ringrazio per l'invito Riccardo ma sono assolutamente entusiasta della vostra organizzazione, tutta giovane, tutta esplosiva, ricca di energia, quello che in realtà ne ha bisogno non solo tutta la nazione ma anche il nostro occilento, in particolare Agropoli. Senti, ci puoi dare qualche news per quanto riguarda tutta la programmazione estiva? Ci sarà una guest importante, la puoi annunciare qui? Allora, annunciamo una data, il 3 agosto sono fiero di annunciare questo format che si chiama Nostalgia 90 che tra l'altro il fondatore e colui che porta il format è delle nostre zone perciò ci ho ottenuto molto, veramente, Angelo Radano di Omignano. Quindi, Nostalgia 90, ma mi fai un regalo, scusami, sono cresciuto con quella musica perché negli anni 90 forse avevo la tua età, quindi mi fai un regalo a me direttamente. Esatto, esatto, no, tra l'altro ci sarà anche un allestimento nuovo all'interno del locale, io vi invito infatti a venire, domani finalmente montiamo le americane con questo led wall enorme per effetti speciali, tutto, quindi ci sarà del nuovo, ci saranno ovviamente tante novità e io spero tanto di avervi ospiti durante la sera, tutte le sere, in verità non solo una, quindi per me sarà un enorme piacere. Allora, l'ho detto già al patron Davide Pecora, noi domani sera saremo al Tammorra Fest di cui io sono il direttore artistico a Omignano e Salento, però al termine della serata cercherò di salire su al Carrubo come pure ho invitato i tanti che verranno al Tammorra Fest, che godranno prima della musica tipica regionale, quindi napoletana e poi magari potranno divertirsi al Carrubo, tanto voi starete aperti fino alle 3, le 4, no? Ho sbaglio? Sì, fino alle 4 saremo aperti. Quindi volentieri magari ti raggiungerò, se non dovesse accadere domani non mancherà sicuramente. E niente, allora ti lascio gli ultimi secondi per invitare tutti coloro che ci seguono dalla regione Campania per domani sera. Assolutamente, vi aspetto domani sera in numerosi, i numeri di telefono sono presenti sulla locandina pubblicata su Instagram, New Carrubo Events e Facebook, pagina ufficiale del Carrubo, per qualsiasi informazione potete chiamare, vi risponderò io o il mio socio Antonio Ceraso che sempre ringrazio e saluto e saremo presenti e ci divertiremo insieme e finalmente ritorneremo a ballare dopo questo periodo di pandemia. Assolutamente in sicurezza, come sempre al New Carrubo di Agropoli, con un'energia giovane e tantissime novità. Grazie Riccardo, in bocca al lupo per domani. Grazie a voi per l'invito e spero di vedervi presto. Grazie ancora. Grazie a voi.